L'uccisione della professoressa Antonella Falcidia, a Catania, il 4 dicembre 1994, è uno dei tanti delitti irrisolti italiani, con la soluzione a portata di mano. Ma nascosta dalla cecità dell'orgoglio e del pregiudizio. Il corpo venne scoperto dal marito Vincenzo Morici, medico chirurgo. La vittima indossava la vestaglia da camera, la camicia da notte e le mutandine. Al polso sinistro aveva un orologio marca Rolex, con il cinturino metallico slacciato. Il corpo giaceva sul pavimento, ai piedi del divano sporco di sangue, alla destra del cadavere c'erano tre impronte di scarpe tipo tennis macchiate di sangue. 23 colpi rabbiosi sferrati con una lama monotagliente lunga almeno 16 centimetri, alcune di difesa attiva, nessuna convalenza sessuale. Oltre alle ferite di arma bianca, presentava ecchimosi sul naso e sulla fronte. La scena iniziale dell'attacco armato risultava essersi svolta sul divano insanguinato. Fra le tracce di interesse investigativo abbiamo, l'ora del dilitto, circa due ore prima della scoperta del cadavere, l'assassino che non ha lasciato tracce di impronte papillari. Non sono stati rinvenuti segni di effrazione sulla porta, sui vetri e sui vari infissi dell'abitazione. Non è stato constatato il disordine classico della tentata rapina o dell'intrusione per furto. Sulla cassaforte non vi erano impronte digitali, né di tentata effrazione. Sono stati rinvenuti un capello di donna nella mano destra della vittima e sul divano alcuni capelli biondi. Mancava un coltello da cucina, con misure e caratteristiche uguali all'arma del dilitto. I domestici Anna e Antonio, coniugi originari dell'OSR Aylanca, hanno dichiarato, separatamente, che erano a casa proprio al momento del dilitto. Inoltre, Antonio ha detto che stava lavando le scale del palazzo in cui abitava, quello di fronte allo stabile dell'omicidio. Antonio era un marito violento, in contrasto con la professoressa Falcidia, che tutelava Anna. Il profilo dell'assassino, a mio avviso, è il seguente. Soggetto maschio adulto, lo si deduce dalla forza dei due pugni sferrati alla fronte e al naso della vittima, dalla forza impressa alle pugnalate, dall'accanimento sulla vittima. Dall'opera di alterazione della scena tramite le tre orme di scarpa femminile, indirizzando così i sospetti verso una donna. Soggetto con ampia libertà di movimento che si è introdotto artatamente aprendo la porta con un doppione della chiave, lentamente e silenziosamente, senza il rumore dello scatto. Questo dimostra che sapeva che la vittima stava guardando la televisione con le spalle rivolte alla porta. Che sapeva come potere neutralizzare il sistema d'allarme situato accanto allo stipite della porta. Un soggetto agile, veloce e scattante, organizzato, pianificatore, freddo, determinato, abile nell'intrusione, e nell'azione esecutiva, capace di far fronte a imprevisti. Ostacoli e situazioni di pericolo. Che ha dimostrato un agevole controllo visivo e strategico del palazzo, ottima capacità e possibilità di intrusione, con accesso. Contatto e o frequentazione con soggetti che erano in possesso delle chiavi. Conosceva gli orari e le abitudini della vittima, del marito, del figlio e dei collaboratori domestici. Conosceva anche, in anticipo, i loro movimenti per la sera del delitto. Le sue attività di depistaggio dimostrano che vive con una donna che non ha scarpe taglia 36 e non ha capelli biondi o castani. Proprio perché ha seminato sulla scena capelli biondi e tracce di scarpa taglia 36. Ha dimostrato una tecnica d'uso del coltello che non è quella siciliana, colpi di taglio e di sfregio con inevitabile riferimento al volto. Non ha preso l'orologio Rolex della vittima perché non aveva le conoscenze per piazzarlo. E comunque, il Rolex non era previsto nel suo progetto percorso criminale, quindi non è un malavitoso. Considerazione finale. L'omicidio di Antonella Falcidia mi fa venire in mente il giallo dell'olgiata, che ha avuto per vittima Alberica Filo della Torre. Anche in tale caso la vittima venne lasciata con il Rolex al polso, venne picchiata e altro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!